Pronto? Sì, sono la signora McNee. Senta, signorina, lei ha voglia di scherzare. Sono venti minuti che sto attaccata al telefono. Dio santo, è incredibile. Non chiama sua figlia neanche il giorno del suo compleanno. Dio Cristo. La linea è sovraccarica. Sovraccarica un cazzo, è lui che se ne frega. Aspetta, provo io, la. No, pianta, lascia, non lo faccio io. Sì. No, non mi venga a dire che non risponde all'hotel Excelsior a Roma. Vuol provare ancora, per favore, e lo lasci spillare. Pronto? Sì? No, senta, vi ho già dato il numero quattro volte. Dovete presentare un certificato di idiozia per farvi assumere Dio Cristo. Non mi dica di calmarmi, porca troia, sono venti minuti che sto a questo cazzo di telefono. Stai scherzando? Oh, bene. Lei deve essere andata appena a letto. Sì. E che facciamo? Uscendo 61? Beh, non ricordo di dire a Flo con la cintura blu. Tra poco. che ci fai qui? Mi trovava tutto il letto. Non riesco a dormire. non riesco a dormire. Allò che cazzo. E a boxe che cazzo. E a boxe che ha detto, non riesco a dormire. Grazie. 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 Non c'è niente. Oh, Carlo. Dio Cristo, Carlo, non lo fare più. Mi dispiace, ma ha visto? Non ci sono topi. Non ci sono, eh? Grazie tante.